Potrebbe avere commesso altre violenze sessuali a Arnaut Mustafà, il romano di 25 anni, fermato martedì dalla polizia dopo che una studentessa asiatica di 21 anni ha denunciato di essere stata picchiata e stuprata da un giovane sotto il viadotto Marco Polo, nella zona del Varlungo, alla periferia sud di Firenze. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e contro il patrimonio, è sospettato in particolare di altri due casi, uno avvenuto nel giugno scorso ai danni di una turista giapponese di 36 anni, l'altro risale all'agosto di un anno fa, ai danni di una giovane donna italiana. Caso quest'ultimo che non arrivò sui media per ragioni investigative, ma l'area, quella del Varlungo, è sempre la stessa, per questo le aggressioni potrebbero essere state tutte commesse dal romeno, che gravitava proprio nella zona e bivaccava in uno stabile abbandonato. Io una volta passai d'inverno, era buio, molto buio. Così di giorno abbastanza tranquilla, non c'è gente pericolosa. Di sera credo di sì, non ci vengo mai infatti. Nel frattempo un'altra ragazza di origini asiatiche si è presentata martedì mattina in questura a Firenze denunciando una possibile violenza sessuale mentre era sotto effetto di alcolici. Sull'episodio riportato sulle pagine locali del quotidiano La Repubblica sta indagando la squadra mobile. La giovane avrebbe raccontato che alla fine del turno serale nel ristorante dove lavora si sarebbe trattenuta nel locale con alcuni colleghi e dopo una festa a base di alcol si sarebbe risvegliata la mattina con abiti diversi da quelli che indossava la sera precedente. Non riuscendo a ricordare quanto accaduto e temendo di essere stata abusata si è presentata in questura. Ora aspetta all'ospedale, che ha attivato per lei le procedure previste dal Codice Rosa, a stabilire se la donna ha effettivamente subito una violenza.